Tornano gli incentivi ministeriali per convertire la propria auto trasformandola a GPL o metano. Si tratta di un'opportunità che interessa i cittadini di 650 comuni d'Italia, tra cui Capannoli, perché aderenti all'iniziativa denominata Carburanti a Basso Impatto, nata dall'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e una convenzione tra i comuni. Poiché l'iniziativa è valida solo fino ad esaurimento fondi, gli interessati possono già da oggi prenotare gli incentivi tramite il sito del consorzio Ecogas. La prenotazione assicura solo l'accantonamento del fondo per il cittadino, perché l'erogazione potrà avvenire soltanto dopo la verifica della documentazione inviata, che dimostri il possesso dei requisiti richiesti. Nel dettaglio sono state formate tre tipologie di incentivo. Incentivi alla trasformazione a GPL o metano dei veicoli ERO2 o ERO3 immatricolati dopo il 1 gennaio 1997, i bonus sono pari a 500 euro per il GPL e 650 per il metano. 150 sono a carico delle officine di installazione sotto forma di sconto. Incentivi B-Fuel sono destinate alla trasformazione a GPL e metano dei veicoli commerciali inferiori a 3,5 tonnellate, di categoria da ERO2 in poi, immatricolati dopo il 1 gennaio 1997. In questo caso l'incentivo è pari a 750 euro per le trasformazioni a GPL e 1000 euro per quelle a metano. Non è previsto lo sconto da parte dell'installatore. Incentivi Dual Fuel sono rivolti alla trasformazione diesel GPL e diesel metano, con uso combinato dei due carburanti. Il sistema di assegnazione dei contributi è pari a 750 euro per il GPL e 1000 euro per il metano.